ChatGPT diventa a pagamento, studenti di tutto il mondo tremate e non potrete più utilizzarlo gratuitamente per fare i vostri compiti. Ovviamente si tratta di un'esagerazione, semplicemente OpenAI sta rilasciando un piano PRO che costerà 42€ al mese, quindi un prezzo veramente alto, almeno per quanto sembrano le feature che invece verranno offerte. Ma è interessante perché? Perché chiaramente al momento stanno perdendo tantissimi soldi con ChatGPT e il suo utilizzo massiccio. Infatti abbiamo visto anche che i server sono spesso giù quando si tratta proprio della... quando volete tentare di utilizzare ChatGPT, molto spesso negli ultimi giorni non è stato disponibile, e allora hanno deciso di rilasciare questo piano, che appunto dovrebbe costare 42€ al mese, per cui voi avrete un accesso prioritario ai loro server. Fondamentalmente quello che promettono è, se siete utenti paganti, non troverete mai i server giù, saranno sempre disponibili per voi. Il chatbot risponderà in maniera più rapida, più veloce, e si avrà accesso anticipato a future feature, future cose che verranno fuori. Quindi al momento sicuramente un prezzo che sembra molto alto, per due motivi. Il primo, che vi vado a elencare, è quello che utilizzando le API di OpenAI, che sono già disponibili, potete fondamentalmente usufruire di GPT-3, quindi il modello di linguaggio dietro ChatGPT, quasi senza downtime, io non ho mai riscontrato problemi, ho utilizzato le loro API spesso nelle ultime settimane, e chiaramente non si tratta del chatbot, ci sono dei prompt che, diciamo, hanno un modo diverso di utilizzare il contesto precedente, non è una conversazione, però si ottengono dei risultati molto simili nel momento in cui riuscite a strutturare bene i prompt, anzi, potete essere molto più precisi nel modo in cui volete ottenere la risposta, potete modificare la temperatura, quindi quanto creativa la risposta deve essere o meno, potete settare i caratteri che volete ricevere in risposta in maniera più precisa, insomma, ci sono tante cose interessanti. Chiaramente anche le API sono a pagamento, ma difficilmente l'utilizzo delle API che farete arriverà a costarvi 42 euro al mese, a meno che non si tratti di un utilizzo professionale, avete costruito un'applicazione sopra GPT-3 o cose di questo tipo. Quindi, quali sono le cose interessanti su cui riflettere? La prima è proprio che si stima che OpenAI stia spendendo milioni al mese per gestire tutto il traffico, tutte le domande che sono arrivate su chat GPT, a volte questo successo può essere stato troppo grande, chi lo sa, e finché non verrà finalizzato questo potenziale round da 10 miliardi di cui abbiamo parlato in un altro video, penso qui sopra, beh, magari un po' di cash potrebbe fargli comodo, anche se sicuramente ne hanno già raccolto parecchio in passato. Questo piano da 42 dollari al mese mi sembra a livello business una buona idea, fondamentalmente quello che vogliono fare è monetizzare i super utenti, quelli che magari non hanno neanche preoccupazione a livello di costi, quindi penso un po' a un approccio alla superhuman, per chi dovesse conoscere questo software di email, che costa 30 euro al mese, ed è fondamentalmente una skin molto potente di Gmail. Io stesso l'ho usato, l'ho trovato molto utile, specie in un momento in cui dovevo gestire tantissime email, inbox diverse, insomma quella velocità in più valeva la pena, ma il loro target principale sono sempre stati investitori, VC, quindi gente ricca della Silicon Valley tendenzialmente, che non aveva problemi a spendere 30 euro al mese per un software, e fino adesso sembra essere stata una scelta intelligente, interessante, quindi si sono trovati una nicchia. Penso che OpenAI voglia partire da questa nicchia qui, per cominciare un po' a monetizzare il proprio servizio, e soprattutto forse non volevano partire troppo bassi con il prezzo, per evitare in futuro di doverlo alzare, e poi ricevere le varie critiche, è una cosa che si vede spesso, aziende che magari cominciano a mettere servizi a pagamento a un prezzo molto basso per attrarre tantissimi utenti, ma poi il costo per dare il servizio è troppo alto, quindi non riescono più a mantenere lo stesso livello e devono alzare il prezzo e la gente si arrabbia. Quindi sicuramente se dovessero mettere un paywall su chat GPT molte persone rimarrebbero deluse, però penso che sia anche comprensibile, loro hanno sempre detto che questo software era in beta, che era una prova, quindi forse non si aspettavano neanche tutto questo traffico, tutta questa attenzione mediatica, e adesso stanno un po' cercando di capire come possono monetizzare, quanto penso stiano appunto proprio cercando di partire nell'upper bound, ecco mettiamola così, per poi magari scendere in futuro o creare piani diversi, diversificare i tipi di piani. Quindi sicuramente uno sviluppo interessante, questo è un video un po' hot take, quindi spero che ci siano delle riflessioni, scambi nei commenti, su quali secondo voi possono essere degli utilizzi che giustificano effettivamente 42 euro al mese, che mi sembra un prezzo veramente alto per il tipo di servizio in più che offrono adesso, cioè semplicemente avrete un uptime migliore e risposte più veloci, mi sembra poco, però magari in futuro arriveranno integrazioni interessanti. Ci sono persone che hanno parlato di avere chat GPT all'interno del vostro Teams o Slack, quindi magari direttamente chiedere, fare domande all'interno di Slack, sono cose che in realtà si possono costruire facilmente anche con servizi tipo Zapier, Make, e fondamentalmente potete prendere i messaggi di Slack, poi mandarli tramite webhook alle API di OpenAI e utilizzando il loro modello GPT, ma non chat GPT, semplicemente quello tradizionale, mettiamola così, ottenere una risposta. Però ecco, magari per i business che non sono a conoscenza di queste manovre o che hanno bisogno di un chatbot vero e proprio e non solo del playground in cui fare una domanda e ottenere una risposta, potrebbe essere una feature futura interessante. C'è chi parla magari di un database più aggiornato e ottenerlo in anticipo. Insomma, ci sono tantissime opzioni. Vediamo come andrà a finire. Io sono curioso di sapere quello che pensate. Vi ricordo che ogni altro giovedì, quindi due volte al mese, con Giorgio e Mr. Rip in live parliamo di temi di attualità e molto spesso parliamo anche proprio in questo periodo soprattutto del mondo dell'AI, delle novità. Quindi se ci dovessero essere maggiori conferme, se più persone dovessero essere ammesse a questo piano, se accetteranno la mia candidatura per ottenere in anticipo questo piano, sicuramente lo proveremo in live e vi faremo vedere un po' di novità e un po' di notizie in merito. Io spero che questo video flash vi sia piaciuto. Come vi dicevo, secondo me il valore aggiunto di questo video sarà proprio nei commenti, quindi sono curioso di sapere cosa ne pensate, se pagherete, se credete che ci sia un utilizzo effettivamente utile di questi 42 euro al mese. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!